Ciao a tutti! Ciao a tutti! Come andata? Surprise! Filippa Lagerbach riceve una sorpresa bellissima per il suo compleanno. La moglie di Daniele Bossari ha compiuto 48 anni, un'occasione imperdibile per la figlia Stella che ora vive a Parigi con il fidanzato ma che ha deciso di farle appunto una sorpresa. Come andata? Surprise! It's okay! So have you been part of the world? It's okay! Grazie a tutti.